Prevenire l'insorgenza di vecchie e nuove dipendenze tra i più giovani, promuovendo stili di vita sani. Questo è l'obiettivo del progetto www.sprigioniamoci.it, gestito dalla cooperativa Demetra, in partenariato con la cooperativa Nuovi Orizzonti e l'ispettoria Salesiana Sicula, è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga. Varie le azioni all'interno del progetto che in questi mesi hanno coinvolto non solo i ragazzi d'età compresa, tra gli 11 e 18 anni residenti a Ragusa, ma anche i genitori, informandoli sui comportamenti da attuare in famiglia e sui servizi territoriali che si occupano di prevenzione. Con Spazio App e Spazio Radio, i ragazzi accompagnati dai tutor, da uno psicologo e da un esperto in materia hanno avuto la possibilità di imparare come si sviluppa e si gestisce un'app, e come si crea un programma radiofonico. A Radio Don Bosco, dunque, grazie a Gurriari in queste settimane, ha introdotto i ragazzi, quasi tutti appartenenti ai gruppi scout del Ragusa 1 e 2, al vasto mondo della radio. A Radio Don Bosco abbiamo avuto il piacere di ospitare in questi mesi un bellissimo gruppo di ragazzi che hanno aderito al progetto Sprigioniamoci. Devo dire che li ho visti molto interessati, molto attenti e abbastanza preparati gli incontri fatti insieme agli esperti, insieme ai tutor, ma insieme anche allo psicologo, devo dire, hanno dato degli esiti molto, molto interessanti. Abbiamo registrato pure delle bellissime trasmissioni parlando proprio di dipendenza, così come, diciamo, il progetto invita a fare. Devo dire che mi ha aiutato molto ad avvicinarmi al mondo della radio. Diciamo che noi giovani non siamo molto abituati, in quanto abbiamo i cellulari YouTube, quindi non ascoltiamo molto la radio. Però, grazie a questo progetto, ho avuto modo di saperne di più e quindi sono riuscita un po' ad avvicinarmi di più a questo mondo. Per quanto riguarda le dipendenze, abbiamo imparato a conoscerle, a classificarle, anche perché spesso tra i giovani della nostra età se ne fa uso, senza conoscere però le conseguenze, oppure senza conoscerle di per sé, appunto, in prima persona. Importante il ruolo di Paolo Cultrera, psicologo e psicoterapeuta, che ha aiutato i ragazzi a conoscere meglio le dipendenze e come queste possano condizionare la vita di ognuno di noi. Inoltre sarà uno dei relatori dei tre workshop Valori Condivisi, rivolti alle famiglie e agli esperti nel settore, che prendono il via oggi pomeriggio e continuano giorno 4 e giorno 6 nella sede del consorzio La Città Solidale. In questo momento abbiamo proprio finito di registrare una delle puntate di Spazio Radio. Si sono venuti a creare due gruppi con dei ragazzi che vanno dai 10 ai 17 anni e questi qui hanno visto un po' il dietro le quinte di come funziona un programma radiofonico, quindi imparando anche un po' la parte tecnica. Ma soprattutto, diciamo, questi momenti ci hanno dato l'opportunità di elaborare temi che riguardano il sociale più in generale, ma più in particolare il tema della dipendenza e le sue varie sfaccettature.